6 punti scritti a mano su un foglietto per non dimenticare nulla di ciò che dal 2006 ha fatto nel braccio di ferro contro l'Ilva. Il governatore di Puglia, Nichi Vendola, sceglie di spiegare pubblicamente il perché, pur con angoscia, si senta sereno davanti all'indagine della procura di Taranto che lo ha coinvolto assieme ad assessori e dirigenti regionali. Io sono sereno, so come mi sono comportato, la mia amministrazione non è stata subalterna a un potere forte, ha operato con la schiena dritta e credo che potremmo dimostrarlo rapidamente alla magistratura tarantina a cui continuo a guardare con stima. Vendola ricorda una ad una le azioni fatte. Il raddoppio a Taranto degli organici dell'ARPA nel 2006, l'acquisto per mezzo milione di euro dello spettrometro grazie al quale misurare le concentrazioni di diossina, il monitoraggio con le centraline mai installate prima, la legge antidiossina, la guerra al benzoapirena in controtendenza rispetto alla mano morbida del governo nazionale, fino alla valutazione del danno sanitario. E poi, quell'unico contrasto con parte della popolazione di Taranto sull'ipotesi di chiusura dell'Ilva. Io ero contrario, ha ricordato Vendola. preferivo riqualificarla. Non sono mai stato sul libro Paga dei Riva, ha detto, per questo mi sono sempre sentito libero di chiedergli conto dell'inquinamento ambientale. Quanto poi all'accusa di aver pressato per ammorbidire il direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, dice... Ricordo a tutti che ho voluto, fortemente, come direttore dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, uno scienziato famoso per la sua intransigenza, un uomo, diciamo, credo universalmente conosciuto proprio per la sua schiena dritta. Chiarirà tutto, ha detto. Io andrò, appena possibile, a rispondere alle domande del pubblico ministero. E lo faccio veramente con la cognizione, non solo di aver operato bene per l'Ilva, ma di aver pensato che lì si poteva scrivere una pagina di storia di un nuovo mezzogiorno d'Italia. Nei corridoi della regione alcuni degli indagati, Lorenzo Nicastro, assessore all'ambiente, lontano dai microfoni, alla domanda se questo può essere considerato un atto dovuto da parte della magistratura, si stringe nelle spalle. Se me l'aspettavo, dice no, proprio no. Ci sono anche l'avvocato Michele Laforgia e il collega Fritz Massa, a difesa di Nicastro e dell'attuale capo di gabinetto pellegrino. Intanto i gruppi di maggioranza della regione fanno sapere di essere fiduciosi nell'operato della magistratura che dimostrerà presto, scrivono, la totale estranetà ai fatti degli esponenti della regione coinvolti nell'inchiesta.